Il titolo è Dal caos al destino, dal caos al destino e abbiamo visto, andremo velocemente attraverso i punti che abbiamo trattato, abbiamo visto Genesi 1, dal versetto 1 al versetto 3, dove dice nel principio Dio creò i cieli e la terra, Bereshit Barha Elohim eccetera eccetera, quando abbiamo definito che Dio ha stabilito un tempo prima di creare una creazione, perché senza tempo non ci poteva essere una creazione e Dio ha stabilito un tempo per poter creare qualche cosa attraverso la tua vita, abbiamo visto questo. Abbiamo visto che Dio ha creato questo tempo e in questo tempo era un tempo di confusione, Dio si trova a suo agio nella tua confusione, la confusione è un dono di Dio per la tua vita, abbiamo portato l'esempio di un puzzle, vero? Il puzzle è fatto di migliaia di pezzi e questi migliaia di pezzi nelle nostre mani creano solo tanta confusione, quando tu inizi a lavorare in un puzzle non sai da che parte iniziare, non so voi ma io inizio sempre a definire i bordi, vero? E così è con Dio, Dio ti dà un puzzle ma la fede abbiamo visto che ti fa vedere già l'immagine compiuta, la fede è la scatola del puzzle dove tu hai già l'immagine e abbiamo detto che la confusione ti porta attraverso un processo e la frustrazione invece è un segno che provvede, che proviene dal cielo, perché? Perché quando tu sei frustrato sei scontento, vero? E perché noi siamo scontenti alle volte? Perché vediamo le cose che non sono come noi vorremmo, vero? Ma quella frustrazione spesso viene da Dio perché Dio ti vuole spingere oltre, quando tu sei soddisfatto ti siedi e quando ti siedi non sei una chiesa dinamica ma sei una chiesa che dorme e da un movimento ti trasformi in un monumento e non vi preoccupate se voi non sarete soddisfatti, sapete perché? Perché Dio vi sta chiamando a qualche cosa di più C'è solo una cosa, tu sarai soddisfatto quando sarai alla presenza di Dio, fino a quel momento, non avere paura della frustrazione ma prendila come un obiettivo per crescere, per sviluppare, per andare davanti Ok? Quindi se volete andare più nel dettaglio riascoltatevi la predicazione di stamattina La frustrazione è un segno dal cielo, abbiamo visto quindi che con la fede afferri ma con la costanza ottieni Ok? Costanza non è un'amica, costanza è il continuare a rimanere fermi sulla propria fede perché tutti hanno fede finché la fede non viene messa alla prova Pietro dice che è necessario che la nostra fede che è ben più preziosa dell'oro che perisce sia provata come attraverso il fuoco affinché diventi un momento di gloria nel giorno in cui Gesù si manifesta è necessario che la sua fede venga provata come attraverso il fuoco il fuoco non rappresenta lo spirito di Dio il fuoco rappresenta il giudizio di Dio infatti il giudizio di Dio iniziava dalla casa di Dio ed è iniziato il giorno della Pentecoste quando lo spirito santo è sceso e la santità di Dio è scesa sopra delle persone non sante ma attraverso il sacrificio di Gesù il giudizio è sceso sopra le persone ma non lo hanno consumato è la stessa cosa che è accaduta con Gesù vi ricordate sul Monte Carmelo il sacrificio è stato consumato e l'acqua è stata asciugata ma quando Gesù è salito sulla croce il sacrificio di Gesù era più potente di tutti i peccati di tutte le mancanze e quando il giudizio il fuoco è sceso il fuoco non ha consumato Gesù non lo ha consumato perché il sacrificio di Gesù è più grande di qualunque altra cosa la vita è rimasta e quindi cosa accade? che con la fede tu afferri ma rimanendo fermi in quelle promesse che Dio ti ha dato tu arrivi a conquistare la ricompensa della tua fede ma andiamo veloci il diavolo non ti può distruggere vi ricordate cosa abbiamo detto questa mattina? gli angeli sono stati creati per Dio ma noi siamo stati creati da Dio quindi il diavolo non ci può distruggere e perché non ti può distruggere ti distrae e quindi ti sembra che questa confusione crei distrazione ma questa confusione non è data per distrarti questa confusione è data per equipaggiarti perché quando tu hai tutti questi pezzi pian piano capirai la loro posizione e il quadro ti sarà completo capirai perché hai sofferto quel rigetto capirai perché hai sofferto quell'abbandono capirai perché magari sei andato attraverso quel fallimento capirai perché sei andato attraverso quella delusione non perché Dio te l'ha mandata perché il piacere di Dio non è vederti nella sofferenza ma sai nella vita Gesù l'ha detto fatevi animo perché io ho vinto ma non vi preoccupate perché avrete tribolazioni il problema non sono le tribolazioni il problema è che se tu rimani stabile nella fede durante le tribolazioni tu affererai la vittoria è diverso Dio non ti libera dalle tribolazioni Dio ti ha già dato la vittoria nelle tribolazioni andiamo avanti nei punti questi qua erano bonus che hanno dato stamattina ma ogni volta che tratti alcune cose ti vengono sempre fuori punto uno abbiamo visto questa mattina che tu sei stato scelto da Dio in privato e abbiamo visto come Davide è stato chiamato in privato mentre Saul è stato unto re pubblicamente scelto pubblicamente Davide è stato scelto in privato quando puzzava di pecora e spesso noi veniamo scelti da Dio non quando siamo famosi ma quando lavoriamo nella sua opera quando siamo in produzione ci diamo da fare nella sua opera abbiamo visto quindi che Davide era al pascolo delle pecole addirittura non viene neanche chiamato per nome ma abbiamo visto che c'erano sette fratelli vi ricordate il sette rappresenta la pienezza la completezza e quando tu pensi che le cose siano finite quando pensi che sia tutto completo quando pensi che sia tutto compiuto Dio ha in servo un numero otto che significa un nuovo inizio quando tu pensi che non ci sia più speranza Dio ha sempre una via di uscita una soluzione che riguarda la tua vita secondo punto che abbiamo visto ripeto vado veloce perdonatemi ma vi riascoltate la registrazione di questa mattina vado veloce il punto due che abbiamo visto è che Dio ti ha unto prima di posizionarti abbiamo visto che quando Samuele unge Davide lui non va nel palazzo del re ma torna dalle pecore lui non viene posizionato nel palazzo del re ma lui torna indietro a lavorare con le pecore perché? perché abbiamo visto che l'unzione riguarda ciò che Dio fa in noi e per noi ma l'unzione incomincia a trasferirsi da noi verso gli altri quando ciò che accade nel tuo spirito incomincia ad influenzare la tua anima e per questo c'è bisogno di maturità e di crescita tu sei santo tu sei perfetto tu sei completo tu sei equipaggiato tu hai ottenuto ogni cosa nella tua dimensione spirituale ma la parola di Dio ci insegna che noi dobbiamo imparare a camminare per lo spirito e non per le nostre emozioni e questo c'è bisogno di un processo che ti porta a una maturità vi racconto un'esperienza che ho vissuto in Africa nel 2001 ero lì in preghiera e stavo pregando e stavo facendo una preghiera troppo santa sapete quelle preghiere che veramente sono ispirate da Dio e dicevo Signore io voglio avere un incontro soprannaturale con te ed essere trasformato da questo incontro era una bella preghiera vero? voglio incontrarti come Saulo ti ha incontrato come Saul ti ha incontrato sulla via di Damasco voglio incontrarti come Mosè ti ha incontrato davanti al pruno ardente voglio incontrarti come Giacobbe ti ha incontrato e ha lottato con Dio voglio incontrarti come i tuoi grandi serviti hanno incontrato era una preghiera ispirata vero? ora vi spiego dove sta il trucco e mentre ero lì in preghiera ho sentito la potenza di Dio scendere in un modo così potente sulla mia vita al punto che mi ha tolto il respiro è stato sapete quei secondi che sembrano anni e in quell'istante in quel momento l'unica cosa che sono riuscito a gridare è stato basta 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 non ce la faccio più e lo Spirito Santo mi ha detto io sono pronto a rilasciare la mia potenza attraverso di te ma tu sei pronto a gestirla? Dio desidera manifestare la sua potenza attraverso ognuno di noi ma per poter fare questo ha bisogno di insegnarci a gestire l'autorità e la potenza che proviene dal suo nome Dio non è geloso della sua potenza Dio ha scelto noi per andare e predicare per andare e dichiarare guarigione Dio non è geloso della sua potenza Dio si aspetta che i suoi figli si muovano in potenza ma dobbiamo imparare a custodire e a ministrare la potenza di Dio e per questo abbiamo bisogno di crescita e questo è quello che è accaduto a Davide Davide è stato unto ma non poteva andare nel palazzo del re perché? perché doveva attraversare un processo di crescita personale che aveva a che fare con la gestione della potenza di Dio e dell'autorità di Dio ma Davide incomincia incomincia a servire in privato durante il periodo con le pecore adorava suonava la sua arpa ministrava a Dio e abbiamo visto il punto 3 dove tu sei la soluzione prima del riconoscimento tu sei chiamato a risolvere i problemi non a crearli siamo pieni di persone che sono così bravi ad evidenziare quella parola lì evidenziare i problemi a sottolineare dov'è il problema ma quante persone sono pronte a risolvere i problemi che in realtà vedono tutti sapete una delle qualità più grandi che viene cercata nel mondo del business e degli affari è una caratteristica che si chiama problem solving la capacità di risolvere i problemi viene pagata fior di quattrini è una delle abilità più ricercate all'interno della società perché tutti sono capaci a sollevare problemi ad evidenziare problemi ma quanti sono capaci di cercare la saggezza da parte di Dio per risolvere i problemi e questo è quello che è stato chiamato Davide Davide è stato chiamato prima di tutto a risolvere i problemi del re Dio non cerca re Dio cerca adoratori che cacciano demoni quando adorano Dio non cerca re Dio cerca persone capaci di gestire le pecore e pure i caproni Davide puzzava di pecora ma cacciava demoni Davide tormenta cosa tormenta il suo leader perché invece che alle volte cercare una soluzione per far valere quello che noi pensiamo non ci mettiamo al servizio per tormentare per levare peso ai leader che Dio ha messo sopra la nostra vita perché se noi facciamo questo Dio costruirà la nostra vita al punto di rilasciarci in qualche cosa di più grande è così è così sapete quanto è preziosa una persona che io parlo per me come pastore ma sicuramente posso essere portavoce anche di quello che vive il pastore Francesco quanto sono preziose quelle persone che ti sgraviano di tutte quelle cose di quelle circostanze che ti impediscono di essere libero nel ministrare nel pregare nel cercare la faccia di Dio perché questo poi si ripercuote sulla chiesa e quindi alle volte il nostro servizio inizia risolvendo i problemi che solo noi possiamo risolvere ero già al punto tre e stamattina ho parlato di un'altra cosa ho parlato della capacità di evidenziare attraverso questo quali sono i nostri talenti naturali quando tu ti metti al servizio degli altri le persone ti cercano perché riconoscono in te la soluzione a un problema e le persone riconoscono il talento in te prima che tu lo riconosci in te stesso la prima domanda che ti devi fare quando tu dici signore cosa devo fare per il tuo regno la prima domanda che ti devi fare è perché le persone mi cercano perché le persone mi cercano invece ecco le persone mi cercano solo quando hanno bisogno bravo bravo e lo vedremo ora andando avanti nei punti perché eravamo solo i punti tre ce ne sono sette e quindi vado veloce promesso scusate per aver fatto una carrellata di questa mattina ma credo che sia importante per chi non c'era quattro tu entri nel ministerio Dio ti forma nel ministerio Dio ti promuove tu entri nel tuo destino guardate quando la duplicazione avviene prima della promozione lo spiego Dio non ti può promuovere se prima tu non ti duplichi Dio non ti può dare accesso ad una promozione se tu non sei stato all'altezza di una duplicazione questo è un segreto fondamentale per chi aspira a diventare un servo di Dio per chi vuole entrare nel ministerio Dio non ti potrà mai spingere oltre se tu non trovi un rimpiazzo per te stesso guardate cosa accade guardate cosa accade Samuele capitolo 17 versetto 20 qua Davide sta per andare a combattere Golia quanti pensano che sia stata una promozione per lui si è sposato la principessa ha smesso di pagare le tasse ed è diventato re per diritto quanti pensano che sia una bella promozione ma guardate cosa accade guardate qua c'è un segreto incredibile l'indomani Davide si alzò di buon mattino guardate lasciò le pecore ad un lasciò le pecore ad un guardiano lui aveva un compito lui aveva ricevuto un'unzione una chiamata da parte di Dio lui era stato rivestito di una responsabilità e troppo spesso noi lasciamo le responsabilità che Dio ci ha fidato senza pensare chi si prenderà cura di quella responsabilità perché andiamo e diciamo ma il Signore mi ha chiamato a qualche cosa di più grande Dio non ti chiamerà a qualche cosa di più grande fino a che tu non avrai equipaggiato qualcuno a prendere il tuo posto perché Dio non lascia le cose in sospeso e il movimento di cui voi siete portavoci equipers parla proprio di equipaggiamento tu ti devi riprodurre tu ti devi moltiplicare perché solo se ti moltiplichi Dio ti spingerà oltre questo è parte della visione equipers della visione Macarius noi vogliamo equipaggiare persone che prendano il nostro posto perché Dio ci vuole dare altre posizioni ma sei pronto a lasciare a qualcun altro il ruolo che hai? Hello? Sei pronto a lasciare ciò che hai sicuro per qualche cosa che devi ancora conquistare che è ancora incerto? e questa è la cultura del regno di Dio Davide prima di andare sul campo di battaglia prima di entrare nella sfida successiva prima di entrare nella suo destino si è dovuto prendere cura di ciò che gli era stato affidato e lui ha cercato lui ha nominato lui ha stabilito un custode qualcuno che potesse custodire prendersi cura del ciò che va compiuto fino a quel momento non prendere sotto gamba le piccole responsabilità che hai perché solo quando tu sarai sicuro che qualcuno porterà avanti quello che tu hai iniziato Dio Dio ti potrà costituire su qualche cosa di più grande no ma il Signore mi ha chiamato ad andare bello tu non vai finché non sistemi quello che hai una volta ho chiesto a un pastore che è stata una mia guida ho detto ma quando è che sono pronto a fare qualcos'altro e lui mi ha risposto quando qualcuno è pronto a fare quello che tu stai facendo ed è così sai perché perché sennò tutti i tuoi sacrifici sarebbero vani prima Gesù è andato a fare qualche cosa di grande lui dice io vado a preparare un luogo ma non vi preoccupate perché io vi lascerò il paracleto io vi lascerò qualcuno che costudirà i vostri cuori io lascerò qualcuno che vi insegnerà io lascerò qualcuno che vi guiderà Gesù se ne è andato a fare qualche cosa di nuovo ma prima di andarsene ha messo in chiaro che qualcun altro avrebbe preso il suo posto questa è la cultura del regno di Dio perché sennò i sacrifici che tu hai fatto finora tutto il tuo impegno tutte le domeniche che magari non sei stato con degli amici ma sei venuto hai servito per costruire tutti quei tuoi sacrifici andranno persi se tu non lascerai i tuoi sacrifici ciò che hai costruito non li affiderei a qualche di un altro spero che questo concetto sia chiaro e sia entrato nei vostri cuori perché credo che sia una chiave fondamentale per l'avanzamento del regno di Dio ascoltami amico ascoltami amica se tu vuoi essere promosso moltiplicati punto 5 attitudine viene arriva prima dell'altitudine non so se è italiano ma funziona la tua attitudine determina la tua attitudine cioè la tua attitudine determina la tua altitudine guardate leggiamo velocemente mentre egli parlava con loro ecco uscire dalle file dei filistei quel campione quel filisteo di Gad di nome Goliath riprendendo le solite parole e Davide e Leudi tutti gli uomini di Israele alla vista di quell'uomo fuggirono davanti a lui presi da gran paura gli uomini di Israele dicevano avete visto quell'uomo che avanza egli avanza per coprire di vergogna Israele se qualcuno lo uccide il re lo farà molto ricco gli darà sua figlia ed esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele gloria a Gesù per l'assenza di tasse Davide rivolgendosi a quelli che gli erano vicini disse che si farà dunque all'uomo che ucciderà il filisteo e toglierà questa vergogna a Israele chi è questo filisteo questo incirconciso che osa insultare le schiere dell'iddio vivente il quinto punto è la tua attitudine determina la tua altitudine perché questo punto è così importante punto uno siete pronti l'interpretazione che dai alle situazioni è allineata allo spirito che ti muove provo a dirlo in maniera più potabile tu leggi le situazioni in accordo allo spirito che ti sta animando che ti sta muovendo tu leggi i segni in accordo a quello che è la tua storia che cosa intendo il popolo di Israele perché era mosso da uno spirito di paura vedeva un gigante Davide perché era mosso da uno spirito di Dio vedeva un'opportunità lo spirito che ti sta muovendo determina la tua lettura delle situazioni quando tu vedi tutto negativo è perché quello che ti sta muovendo non è lo spirito di Dio mi volete sempre bene vero la tua attitudine non è PNL programmazione neurolinguistica la società ti dice che se tu ripeti le cose abbastanza velocemente abbastanza rapidamente per tanto tempo tu te ne autoconvinci questo è PNL no tu non devi convincere la tua testa tu devi convincere il tuo spirito perché la bocca dell'uomo parla in accordo alla profondità del suo cuore ciò che esce dalla tua bocca viene determinato da ciò che tu hai dentro la tua dichiarazione può essere determinata da uno spirito di paura da un'attitudine di paura o da uno spirito d'adozione per il quale tu dichiari Abba Padre per il quale tu dichiari Signore tu sei con me chi può essere contro di me tu puoi dichiarare che mille ne cadranno alla tua destra e diecimila alla tua sinistra ma tu rimarrai in piedi perché perché quando sono debole sono forte quando sono povero sono ricco ciò che Dio ha fatto per me è più grande di qualunque altra cosa io posso ogni cosa attraverso Cristo Gesù che mi dà la forza e il tuo spirito dentro incomincia a ribollire e tu vai davanti alla montagna e dici chi sei tu montagna davanti a me diventerai pianura perché perché lo spirito che ti muove è quello che ti fa leggere una situazione guardate quest'altra frase ostacolo e opportunità sono la stessa cosa vista da prospettive diverse ce l'avete questa frase me la potete mettere ostacolo e opportunità sono la stessa cosa ostacolo e opportunità sono la stessa e identica cosa vista da prospettive diverse è così per Israele era un ostacolo per Davide era un'opportunità qualcuno ha cambiato Golia qualcuno ha cambiato Golia ascoltami quel problema che ti rode tanto dentro la chiesa per te può essere un ostacolo ma perché non lo vedi come un'opportunità perché nel momento in cui te lo risolvi ci può essere una promozione Dio Dio l'ha messa per lamentarti o Dio l'ha messo per promuoverti Dio ha messo quell'ostacolo davanti a te perché tu ne sia impaurito o perché tu ne sia liberato l'attitudine determina la tua altitudine non voglio leggervi tutto il capitolo ma subito dopo appena Davide fa questa domanda viene fuori suo fratello il primo genito il boss guarda Davide ora vi racconto la versione secondo Luca ok vada Davide e gli dice Onano perché era più piccolo l'altro era alto a chi è lasciato quelle quattro pecore perché non torni da dove sei venuto cosa sono queste domande arroganti cos'è quest'attitudine arrogante questo dice a Davide sapete cosa vi dico io invece mi potete mettere questa frase ragazzi che forse dovreste averla l'arroganza non è sempre uno sbaglio perché l'arroganza quando è allineata alla parola di Dio diventa umiltà quando tu guardate Davide scusate guardate Saul Saulo Paolo io posso ogni cosa attraverso colui che mi fortifica prendete esempio da me fate quello che io faccio se io predicassi qualche cosa del genere sui social Dio li benedica dopo tre secondi incomincierebbero a scrivere guarda quanto è arrogante quello guarda quanto è presuntuoso l'arroganza invece quando tu l'allinei alla parola di Dio diventa umiltà perché perché se Dio ha detto che io posso ogni cosa attraverso Cristo Gesù che mi fortifica e io dichiaro che posso ogni cosa io non sono arrogante io sono umile perché sottometto il mio pensiero a ciò che Dio ha decretato molte persone sono umili nel mondo ma arroganti di fronte a Dio perché Dio ti dice tu puoi rialzarti in piedi no signore non ce la faccio non sei umile sei arrogante se Dio ha detto che tu puoi tu puoi questa è umiltà ciò che per gli uomini è umiltà per Dio è arroganza ciò che per gli uomini è arroganza per Dio è umiltà se tu ti sottometti a ciò che Dio ha detto agli occhi di Dio sei umile per questo la Bibbia dice che Dio resiste ai superbi ma dà grazie agli umili perché quando tu sei umile davanti a Dio tu dici grazie signore perché io posso ogni cosa attraverso te che mi dai la forza non c'è un demone che mi può resistere non c'è un angelo di satana che mi può fare del male non c'è qualcuno che mi può perseguitare io non cadrò per terra io rimarrò in piedi grazie signore perché tu sei la mia forte torre tu sei la mia roccia e davanti agli uomini tu risulti arrogante ma in quel momento perché tu ti sei sottomesso alla potenza di Dio e alla gloria di Dio il regno dei cieli per grazia sovviene alle tue incapacità e la potenza di Dio si manifesta umiltà per Dio e credere in quello che lui ha detto e l'arroganza alle volte è umiltà e la mia domanda è dove sei arrogante questo determina il tuo destino perché tu sei arrogante dove sai che puoi riuscire quando vieni a cena te lo cucino io questo come lo faccio io non lo fa nessuno sei arrogante perché sai che riesci l'area dove tu sei più arrogante probabilmente è un dono che Dio ti ha dato perché Dio ti ha messo delle capacità in quella dimensione probabilmente esprimi la tua arroganza con umiltà il che è buono ma non prendere l'arroganza come qualcosa di sbagliato incanalalo nel modo corretto perché tu sei coraggioso sei diventi boldness diventi vabbè poi trovo la parola diventi riesci ad esprimere audace le tue capacità vengono espresse non siamo finti umili ma mettiamo i talenti che Dio ci ha messo a disposizione per il suo regno entrare nel nostro destino è il punto l'abbiamo detto già questa mattina lo ripeto il successo è la celebrazione pubblica del sacrificio privato il successo è rendere pubblico ciò che è accaduto in forma privata questo è successo a Davide lui è arrivato al successo perché perché ha combattuto l'orso e il leone in privato punto sei corro vado avanti crea una testimonianza che ti sostiene crea una testimonianza che diventa il fondamento sul quale tu rimani in piedi perché ci sono momenti in cui tu non avrai certezze l'unica certezza che avrai è ciò che Dio ha già compiuto nella tua vita per questo la parola di Dio in Apocalisse dice che essi hanno vinto attraverso il sangue dell'agnello e la parola della loro testimonianza per questo è così fondamentale testimoniare ciò che Dio ha fatto sapete perché perché quando tu testimoni della vittoria di Dio tu crei un terreno solido per riprodurre quel miracolo e questo accade dappertutto nella parola di Dio quando magari un Giacobbe incontra Dio e cos'è che fa appoggia una pietra crea una testimonianza stabile e dichiara un nome su quella pietra perché perché quando tornerà indietro quando la sua strada è persa lui tornerà in quel posto e vedendo quella pietra si ricorderà della fedeltà di Dio in passato ci sono dei momenti ci sono dei momenti in cui tu non avrai certezze l'unica certezza che avrai nel ministerio è guardarti indietro e vedere la fedeltà di Dio nel passato perché il terreno intorno a te sarà talmente instabile sarà talmente incerto che tu sarai alla ricerca di aggrapparti da qualche parte e l'unica cosa che ti renderà vittorioso l'unica cosa che ti renderà in piedi sarà la testimonianza che tu avrai lasciato nel tuo passato impara a celebrare le vittorie che Dio ti dà oggi perché se tu fissi quelle vittorie oggi diventeranno un pilastro perché altri possano costruirci sopra quelle vittorie che tu avrai conquistato oggi diventeranno la tua stabilità nel futuro quando tu ti guarderai indietro e non avrai certezze davanti dirai il Signore che mi ha guidato e mi ha sostenuto fino a qua sarà lo stesso che mi porterà avanti e tu devi crearti ogni volta che andrai avanti nel misterio costruirai la tua vita creati come Hansel e Gretel una fila di bricioline una fila di pietre che ti ricordano la fedeltà di Dio circondati della parola della testimonianza perché perché le certezze di Dio quando tu le celebri creano un fondamento creano un basamento per il tuo futuro e per altre persone questo ha fatto Davide quando prima di sconfiggere Golia ha detto quando nessuno mi vedeva quando ero da solo Dio Dio mi ha dato testimonianza Dio mi ha dato un leone Dio mi ha dato un orso Dio mi ha fatto vincere Dio mi ha dato una parola di testimonianza e per quella parola lo stesso Dio che mi ha liberato da quello oggi mi libererà da questo filisteo incirconciso lui ha costruito una testimonianza lui ha costruito ascolta una storia nascosta qual è la tua storia nascosta qual è la tua storia nascosta quella storia che Dio ha costruito con te perché Mosè è stato liberato quindi è diventato un liberatore è così la tua storia diventerà la tua vittoria costruisci una testimonianza l'ultimo punto si te stesso se non sbaglio un mio amico che stimo tantissimo a cui voglio bene dice sempre che Dio benedice solo gli originali mai le copie non so se lo conoscete Dio benedice originali tu non devi essere la copia di Luca se parli con mia moglie Francesca dirà che uno basta e avanza tu non devi essere la copia di Luca tu non devi essere la copia di qualche di un altro tu devi essere un originale e Davide vi racconto la storia ho i versetti scritti ma ve la racconto facciamo più veloce sapete tutti che Saul prende e gli mette la sua armatura gli mette la sua spada gli mette la sua armatura gli mette il suo elmo e molte persone pensano che quello che Saul fa è sbagliato e voglio dirti amico amica che quello che lui fa non è sbagliato è solo nel momento sbagliato perché Davide in futuro indosserà l'elmo la corona e l'armatura di Saul lo farà si siederà su quel trono prenderà la sua posizione prenderà le sue responsabilità ma prima di tutto prima di poter far quello Davide ha dovuto imparare a maneggiare il suo bastone infatti la Bibbia dice qualche cosa ascoltate non posso camminare con questa armatura dice Davide non ci sono abituato molte persone vorrebbero la responsabilità ma anche se l'avessero vi assicuro che non sarebbero in grado di portarla perché sarebbe troppo pesante perché li schiaccerebbe è bella l'armatura è bello il potere è bello l'autorità ma sei capace a gestirla puoi portare il peso della responsabilità che proviene dall'autorità guardate la nostra nazione la nostra nazione ha investito persone in autorità che non sanno portare il peso dell'autorità che gli è stata affidata non è facile portare il peso dell'autorità non è facile portare il peso della responsabilità e Davide ha capito una cosa che prima di poter maneggiare una spada un'armatura un'autorità prima di poter guidare un esercito lui doveva imparare a fare una cosa e se tu impari a fare questa io ti assicuro amico mio che arriverà il momento in cui Dio ti stabilirà su cose più alte e lui ha dovuto imparare a fare una cosa ed è quella guardate cosa fa prese in mano il suo bastone e scese al fiume lo spirito santo tante volte nella Bibbia si vede l'immagine di questo bastone lo vediamo in Mosè lo vediamo dentro l'arca dell'alleanza perché il bastone nella Bibbia rappresenta l'umanità rappresenta la tua persona rappresenta le tue fragilità rappresenta il tuo essere umano la stesso bastone che alle volte si è tramutato in un serpente la tua umanità la prima cosa che Dio ha dovuto insegnare a Mosè è a gestire la sua umanità spesso la nostra umanità diventa il nostro stesso diavolo diventa il nostro stesso serpente le nostre fragilità la nostra umanità è la cosa che noi dobbiamo imparare a gestire più di ogni altra cosa e quando tu impari a gestire la tua umanità tu non sconfiggerai il diavolo attraverso le pietre ma il primo modo in cui tu andrai contro il diavolo e questo è quello che dice a Golia Golia a Davide gli dice tu stai venendo davanti a me con un bastone cosa sono io un cane il diavolo non è altro che un cagnolino ma autorità nella tua vita fino a che tu non impari a gestire la tua umanità e per gestire la tua umanità Davide insegna una chiave lui dice l'unico modo per gestire la tua umanità è inchinarti davanti al fiume della vita e prendere da quel fiume cinque pietre che rappresentano la grazia di Dio tu devi abbandonare la tua umanità non hai bisogno di armature non hai bisogno di autorità tu hai bisogno di abbandonare la tua umanità davanti al fiume della vita e prendere grazia da quel fiume e attraverso quella grazia non c'è demone che ti potrà resistere non c'è gigante che potrà stare davanti a te perché quando tu sei te stesso e accetti le tue debolezze accetti la tua umanità accetti le tue incapacità e le abbandoni davanti al fiume della grazia dentro di te c'è una potenza e un'autorità che va oltre ogni armatura va oltre ogni autorità va oltre ogni potenza Davide prende cinque pietre e si presenta davanti a Golia con due cose con la sua umanità con la sua fragilità ma con la grazia di Dio con la sua umanità ma con la grazia di Dio Dio non cerca supereroi Dio cerca persone umane che non cercano autorità non cercano potenza perché i greci cercavano sapienza i giudei cercavano potenza ma noi predichiamo Cristo crocifisso noi predichiamo quel fiume di vita che fa in modo che la nostra umanità diventi grazia nelle sue mani diventi capacità diventi abilità non so quanti hanno bisogno ancora e ancora di questa grazia abbondante sopra la propria vita io ne ho bisogno e se tu sei qua questa sera è il desiderio più grande della tua vita è quello di entrare nel tuo destino è quello di entrare nella tua chiamata io ti ho lasciato sette passi importanti ma credo che quest'ultimo sia la cosa più fondamentale perché se tu impari quest'ultimo passo gli altri verranno in maniera naturale e ogni giorno io ho bisogno di attingere da quel fiume ho bisogno di inginocchiarmi ho bisogno che la grazia di Dio regni nel mio cuore nella mia vita perché quando riconosco di essere debole allora sono forte quando riconosco che la mia voce è solo uno strumento per la grazia di Dio le parole incominceranno ad avere un impatto le parole incominceranno a creare le parole incominceranno a guarire le parole incominceranno a rilasciare c'è un senso di destino c'è un senso di destino in questa chiesa c'è un senso di destino in questa visione c'è un senso di destino in questa famiglia c'è un senso di destino per la nostra nazione e se tu vuoi dare a Dio il diritto di servirsi di te ti chiedo di fare solo un atto semplice nel posto in cui sei che tu sia online che tu ci stia seguendo dai vari campus che tu ci stia seguendo dietro un computer che tu sia in questo luogo ti chiedo di alzarti in piedi come testimonianza davanti al mondo spirituale dicendo signore io magari non so non mi reputo all'altezza ma ti prego usati di me non so ancora come c'è confusione nella mia mente non è ancora chiaro il progetto non è ancora chiara la visione ma la mia preghiera è una usati della mia umanità usati della mia fragilità attraverso la tua grazia ringrazio tutte le persone che si sono alzate in piedi e hanno risposto a questa preghiera e vorrei pregare insieme ed è Signore Gesù nel tuo potente nome io ti chiedo di utilizzarti di ognuno di noi perché un senso di destino possa essere rilasciato in questa nazione ti prego Signore che una nuova generazione possa alzarsi nella nostra nazione una generazione che si alza in piedi e porta in alto il tuo nome porta in alto la tua grazia porta in alto la tua potenza porta in alto il tuo nome Signore grazie perché tu ci renderai capaci di moltiplicarci tu ci renderai capaci di servirci l'un l'altro tu ci renderai capaci di onorarci l'un l'altro ma soprattutto tu ci renderai capaci di sottomettere la nostra umanità le nostre fragilità alla tua grazia e alla tua gloria Signore ascolta il nostro cuore e ti ringraziamo per l'onore e l'opportunità che ci hai dato di essere parte del tuo popolo nel nome di Gesù Amen dai fai un applauso a Gesù wow grazie 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 di cuore per avermi dato l'opportunità e l'onore di essere insieme a voi grazie per il vostro cuore grazie perché nel mondo spirituale si percepisce la fame e il desiderio di vedere l'avanzamento dell'opera di Dio che c'è nel vostro cuore sapete ci sono realtà dove è difficile esprimere è difficile legarsi alla comunità è difficile comunicare ma quando sono qua siete come una spugna siete come persone che hanno voglia hanno desiderio di crescere di imparare e di vedere la gloria di Dio vi voglio onorare per questo vi voglio ringraziare per questo grazie per il vostro cuore grazie di cuore ciao grazie a tutti